Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, bene sì ho deciso di farmi un sito web Bellissima cosa direte voi estica? No, perché in realtà è interessante, ve lo dico perché ho intenzione di farlo in live, farlo live qui su YouTube Questo per condividere un po' quello che saranno le varie fasi di sviluppo, lo vedremo insieme, lo vedremo nascere, lo vedremo sviluppare E mi sono detto farlo per farlo, facciamolo insieme, facciamolo sul canale Partiamo da quelli che saranno i contenuti di questo sito, saranno ovviamente gli stessi che porto qui sul canale Ovvero voglio raccontarvi un po' dei posti in cui vado a lavorare, un po' quali sono le difficoltà del lavoro da remoto Insomma tutto quello che riguarda il vivere da freelance e da nomade digitale Ci sarà quindi una mappa in cui voglio un po' raccontare tutti i posti in cui vado a lavorare In modo da poter offrire a chi capiterà sul mio sito la possibilità di scoprire dei posti normali come co-working Ma anche meno normali come, non lo so, tavoli in mezzo alle valli o i boschi, quello che sia E in questo modo collegarli poi ai video, scrivere comunque delle righe, insomma raccontare un po' quali sono i posti in cui si può lavorare Sbizzarrendosi con la fantasia Ci sarà quindi una parte anche più descrittiva in questi posti in cui ovviamente riporterò sia i video in cui parlo di questi posti Ma anche potrei scrivere degli articoli oppure articoli che non c'entrano niente Insomma anche una parte di blog che non fa mai male, quindi ci sarà anche questo sul sito Ci sarà poi una parte di risorse per freelance, nomadi digitali, comunque chiunque voglia approfondire il discorso del lavoro da remoto Quindi una corta di siti utili per trovare lavoro, ma anche siti per gestirsi il lavoro Oppure dei posti in cui capire meglio i paesi in cui andare, insomma tutta una serie di risorse per creare una specie di repository per chiunque capiti sul sito Ovviamente ci sarà una sezione per i libri che saranno sempre attivanti all'argomento lavoro da remoto, freelance, comunque Ho anche libri a caso che mi piacciono, non lo so, però saranno comunque anche lì una serie di risorse in più sotto forma di libri Ovviamente ci saranno i miei contatti dove trovarmi, dove trovarmi, i miei link vari, quindi ci sarà un po' di tutto, sarà la mia vetrina online Un altro punto importante sarà dare un nome a questo sito, potrebbe essere banalmente il mio nome e cognome, mio cognome, lo so Ho una serie di domini già tra cui scegliere perché sono già qua, rischierei che qualcuno me lo tolga da sotto il naso vedendo questo video, dubito Però ho già dei domini, probabilmente tra cui ci sarà quello più papabile, però sarà importante dargli un nome corrente, vedremo Vedremo poi insieme che aspetto dare questo sito, ho già delle idee, l'idea è comunque che sia un sito che permetta di navigare facilmente Ma avere subito in prima pagina una serie di risorse, non lo so se sarà subito in prima pagina, ma il discorso mappa, il discorso luoghi in cui lavorare Siccome per me è molto importante e voglio che sia abbastanza centrale nel sito, potrebbe essere in prima pagina Quindi magari sarà una pagina semplice che però subito ti presenta una mappa con tante icone sparse per il mondo Con le varie recensioni, video, comunque dei posti in cui ho lavorato Oppure potrebbero esserci tante sezioni che rimandano a diverse pagine Sarà comunque una pagina molto essenziale, perché a me piace lo stile essenziale, quindi non ci saranno grandi pop up o grandi cose Iscriviti, lascia, vedremo, non vorrei fare un sito a chiappalink, ma vorrei proprio fosse un sito utile Quindi potrebbe esserci una mappa in prima pagina o come no, o pagine divise per ogni cosa Però sicuramente sarà importante vedere insieme quale aspetto dare Ovviamente non sono un grafico, non sono un designer, potrebbe venire una schifezza colossale O potrebbe venire il capolavoro dei siti, non è importante Cercheremo di fare qualcosa di carino, per chi vorrà darmi consigli Sarò super disponibile ad ascoltare perché non ho ancora idea di come farlo Bene, passiamo all'aspetto tecnico di questo sito Che alcuni potrà interessare, alcuni non potrà fregare di meno Ma ovviamente saranno live di programmazione Quindi sicuramente interesseranno di più a chi vuole vedere cosa c'è dietro un sito Perché appunto non utilizzerò né un generatore di siti online come può essere Wix o cose del genere Non utilizzerò neanche un CMS, WordPress o cose anche più evolute Perché ovviamente questo è un modo per me anche di esercitarmi Fare qualcosa che ho imparato adesso a conoscere ma ho tanto tanto da approfondire Quindi farò un sito da zero con delle tecnologie che ho scelto Il linguaggio principe di questo sviluppo sarà JavaScript Che come avrete ormai capito è il mio linguaggio principale di lavoro Nello specifico utilizzerò Next.js, questa libreria che permette di gestire sia la parte server Che la parte client in JavaScript in maniera molto coerente Diciamo, il codice è molto vicino C'è la possibilità di fare cose carine con pagine statiche Con dati dinamici ma comunque con un aumento delle performance Insomma, Next.js sarà il cuore del sito sia per parte server che per parte client Utilizzando Next.js ovviamente la parte client frontend utilizzerà componenti React Che è un'altra libreria che conosco bene E quindi ovviamente preferisco partire da quello che già so Ma cercheremo di farlo bene anche per imparare, diciamo, a ottimizzare questi sistemi Utilizzeremo il Markdown, nello specifico una libreria che si chiama MDX Per scrivere gli articoli del blog, tutte le parti diciamo più dinamiche Che dovrò aggiornare più spesso, i contenuti Che cos'è il Markdown in parole semplici? È un linguaggio che permette di formattare il testo scrivendo del testo semplice, basilare Quindi utilizzando dei caratteri come asterisco, cancelletto, eccetera C'è la possibilità di scrivere in un foglio questi contenuti Che poi vengono tradotti in un testo formattato Formattato con dei tag HTML Faccio un esempio, cancelletto parola è un titolo, due cancelletti parola è un titolo un po' più piccolo Insomma, lo trasformo in tag HTML classici Quindi molto comodo per scrivere velocemente dei nuovi contenuti MDX nello specifico è una libreria che permette di inserire anche dei componenti più avanzati React, basilarmente, quindi una pagina formattata in maniera molto molto più complessa E quindi l'ho già utilizzato, è molto carino E lo renderemo motore della parte sicuramente di contenuti Per la parte di stile utilizzeremo Tailwind Che è una libreria CSS molto molto interessante Che semplifica molto quella che è la scrittura della parte grafica del sito Lo vedremo comunque L'ho iniziato a utilizzare non tantissimo Ma siccome la voglio utilizzare molto anche in ambito lavorativo La utilizzeremo e la approfondiremo il più possibile Quindi insomma, questo è il progetto di quello che sarà il mio sito Perché ho deciso di farlo in live? Come vi dicevo, voglio creare dei contenuti di programmazione pura E facendo i live sarò spronato sia a farlo bene Sia a farlo in maniera diciamo molto esplicativa L'unico problema è trovare il momento per fare queste live Quindi mi sono detto Se l'unico momento fosse al mattino presto Probabilmente non verrebbe nessuno Ma poi mi sono detto Magari non verrebbe nessuno Comunque qualunque orario Quindi tanto vale farlo quando riesco Tanto le live rimarranno caricate sul canale Se mai qualcuno verrà a farmi compagnia Tanto meglio Se non verrà nessuno Cioè, va bene Tanto il video rimarrà lì Per tutti quelli che vorranno seguire Spero di farle tutte queste live Ovviamente Mi sto impegnando con questo video Ma bisogna poi farle E in più sarà un modo appunto per avere un progetto finito Per arricchire il mio GitHub Io mi sono accorto di avere un GitHub praticamente nullo Nonostante lavori Ma avendo sempre lavorato a progetti privati E poco a progetti open source A progetti miei Stiamo a zero Quindi sto progetto Sarà una repository pubblica Così sarà anche possibile vedere il codice Per tutti quelli che vorranno seguire questo sviluppo E niente Direi che con questo video Vi ho presentato il progetto Grazie a chi ha visto questo video Grazie soprattutto a chi vorrà farsi la sbatta Di venire in live Vi farò sapere tramite la mia pagina Instagram Seguitemi se già non lo fate Quando saranno le live E quindi alla prossima Che sarà ogni un video Soprattutto in live Ciao ragazzi